Su iniziativa del Presidente Alessandro Fucito, l'Aula del Consiglio Comunale di Napoli ha decretato un minuto di silenzio e numerosi interventi successivi dei consiglieri per ricordare Salvatore Caliano, il 21enne deceduto ieri mentre effettuava un lavoro di pulizia per un condominio. Sulla morte del giovane è intervenuto il sindaco che ha precisato disoccupazione precariato, la morte dei diritti, della dignità e delle vite umane sono una vera emergenza nazionale. La consigliera Alessia Quaglietta, costernata, poi ha affermato. Non è la prima e non sarà l'ultima di queste che noi definiamo morti bianche ma è un termine terribile anche soltanto pensarlo. Pensare cioè che giovani della nostra età, anche più piccoli, siano costretti a una serie infinita di piccoli lavoretti perché il lavoro è ancora precario e che quindi rischiano ogni giorno la vita, è una cosa del tutto abberrante. In consiglio si è tornato a parlare anche di ANM con un'interrogazione del consigliere Nonno che preoccupato ha affermato. L'altro ieri ho denunciato questo bando per l'assunzione di 5 responsabili delle funicolari pur sapendo che l'ANM ne ha 15. Stranamente dopo la denuncia è stato ritirato il bando stamattina ho appreso di questa gara d'appalto di circa 300 mila euro per la posa in opera di segnaletica orizzontale sugli assi viari principali. Premesso che l'ANM non paga i fornitori delle sue vernici da anni e le sue gare d'appalto per approvvigionarsi di vernici vanno tutte deserte. Io vorrei capire il criterio con il quale vengono affidati 300 mila euro senza alcuna pubblicizzazione su nessun sito dell'ANM. Anche la vicenda universiadi è stata affrontata in aula a pochi giorni da una seduta, quella a Roma, che sarà decisiva sul proseguo dell'iniziativa che si dovrebbe svolgere a Napoli. La prossima estate il consigliere Moretto è preoccupato. Entro il 13 devono portare una soluzione univoca sia la regione che il comune. La sensazione è che questo accordo non ci sia perché dalle prese di posizioni che sono state assunte anche nell'ambito della commissione universiadi è sembrato che la distanza abissale che c'è tra le casette della mostra d'oltremare e le navi sia ancora in piedi.